Cosa sono i derivati? I derivati sono strumenti finanziari complessi perché il loro rendimento dipende, deriva appunto, dal valore di un altro strumento finanziario, detto sottostante. Il sottostante può essere di natura finanziaria come un'azione, un'obbligazione o un indice di mercato oppure un bene reale come il caffè, l'oro o il petrolio. Il valore del derivato dipende dal sottostante e ha origine da una specifica formula matematica. Il suo utilizzo in un portafoglio diversificato richiede analisi e conoscenze finanziarie approfondite. Esistono tantissime tipologie di derivati, quelli scambiati sui mercati regolamentati con caratteristiche standard e ben definite, i derivati OTC, over the counter, ossia scambiati fuori dai mercati regolamentati. Questi strumenti finanziari, particolarmente complessi, hanno un alto profilo di rischio rendimento. Infatti, spesso, gli investitori esperti li usano a scopi speculativi.